Il cavallo è andato molto bene, mi aspettavo che facesse una bellissima corsa sicuramente, la corsa prima nei preventivi era molto aperta perché Luxury Baby la valutazione era molto vicina, infatti sono rimasto indeciso fino all'ultimo su chi scegliere. Poi c'erano anche altri cavalli di scuderia nostri come quello che montava Bartos, che è un ottimo cavallo da stipple, però probabilmente la nuova specialità non si è trovato molto su agio. Il mio è andato benissimo, è un ottimo saltatore, migliora corsa dopo corsa, sicuramente sarà un buon cavallo da cross, penso anche a Milano.